Infligeva tagli e altro genere di sevizi a Evu Kumpra, che stanchi di sopportare le sue angherie, hanno reagito facendolo arrestare. In manette ha finito un ragazzo di 21 anni, Bruno H., originario dell'Albania, ma da tempo residente a Nereto. Il giovane, con ogni probabilità, voleva instaurare un clima di paura tra gli ambulanti che frequentano il lungomare di Martinsicuro, per poi arrivare a chiedere addirittura denaro. Sembra infatti che già da qualche giorno il giovane avvicinasse Evu Kumpra, pretendendo piccoli regali. Fino a due sere fa, quando ha preteso da due commercianti originari del Bangladesh, entrambi a Martinsicuro con regolare permesso di soggiorno, manufatti per un valore complessivo di 300 euro. Erano le 23 e alla scena hanno assistito anche gli altri ambulanti, che solitamente spongono le proprie mercanzie in via all'Europa. Stanchi di sopportare i soprusi e forti del loro numero, i commercianti si sono fatti sotto, hanno circondato e bloccato il giovane albanese. Qualcuno ha provveduto ad avvisare i carabinieri e i militari, guidati dal maresciallo Antonio Romano, si sono messi immediatamente in azione. Nel frattempo il ragazzo è riuscito a liberarsi dalla presa di Evu Kumpra e a darsi alla fuga, ma senza fare troppa strada. I carabinieri lo hanno intercettato in una traversa del lungomare, nuovamente bloccato. Il giovane è stato accompagnato in caserma e dopo le formalità di rito, rinchiuso nel carcere terramano di Castrogno, dove attualmente si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Deve rispondere dell'accusa di rapina aggravata. Sono in corso accertamenti per verificare se il giovane agisse da solo, avesse invece dei complici e soprattutto se fosse sempre lui l'autore di analoghi episodi verificati sin zona.